Toccato il punto più basso degli ultimi mesi per ciò che riguarda i contagi da covid-19 in città e in provincia, sono 49 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, mentre invece a Caltanissetta sono 19, si conta ancora due decessi, sono un paziente di Caltanissetta e un paziente proveniente da fuori provincia. C'è anche un numero abbastanza congruo di pazienti guariti, sono 139, per ciò che invece riguarda i ricoveri si abbassano notevolmente, sono 48 i positivi ricoverati in malattie effettive, sono 3 i positivi ricoverati in terapia intensiva, sono 3148 in tutto i positivi in 40 domiciliare. In provincia di Caltanissetta, numeri che si abbassano sempre più, è sempre Acquaviva Platani l'unico paese della provincia dove non si registrano positivi, mentre Marianopoli il paese con il numero più basso di positivi, insieme a Sutera rispettivamente 5 e 3.